La storia in cucina di Massimo Montanari Sembra che la stragrande maggioranza degli americani sia convinta che la pizza sia un piatto tipico americano La cosa a noi fa un po' sorridere però sarebbe anche difficile sostenere che la pizza sia un tipico cibo italiano oggi che la si trova in tutte le parti del mondo più surgelata che fresca, a dire la verità Ma dove è nata veramente la pizza? È una domanda destinata a rimanere senza risposta perché la pizza è uno di quei manufatti alimentari molto antichi, molto diffusi molto tipici di tante culture diverse che soprattutto nell'area mediterranea ci segue da molti millenni È una forma primordiale di pane utilizzata sia per essere consumata sia per sorreggere altri cibi l'uso che ne facciamo oggi insomma Ed è un uso largo, larghissimo che si trova con molte varianti presso tantissimi popoli tantissime culture alimentari così come presso tantissimi popoli si trovano forme di pane forme di focacce forme di polente pizza, pane, polenta tutti nomi che cominciano con la P che pare essere l'idioma tipico per indicare il cibo nella antica tradizione indoeuropea anche la pasta comincia per Pi ma questa volta nonostante si tratti di un cibo molto presente in varie regioni del mondo gli italiani hanno qualche pretesa in più da avanzare la pasta è presente in due grandi culture gastronomiche del mondo quella cinese e quella italiana non è detto che sia nata qui né là qualcuno sostiene che in Cina sia arrivata dalla Persia sicuramente in Italia è arrivata per il tramite degli arabi almeno in alcune sue forme perché i romani conoscevano la lasagna la lasagna fresca ma solo gli arabi nel medioevo hanno portato in Italia la cultura delle paste lunghe gli spaghetti, vermicelli, le tagliatelle e soprattutto la cultura della pasta conservata essiccata quella che diventa un prodotto industriale e che quindi si può affermare anche come genere di commercio a lunga distanza poi dal medioevo in avanti si genera sul territorio italiano probabilmente per la confluenza di queste due tradizioni quella romana e quella araba una grandissima varietà una grandissima diversità tipologica di forme di pasta lunghe, corte, larghe, allungate, forate che sempre più diventa importante nell'età moderna il discorso era cominciato dalla pizza finisce sulla pasta questi prodotti che oggi identificano la gastronomia italiana il paradosso è che un prodotto ad alta vocazione industriale come la pasta oggi lo mangiamo soprattutto in casa o magari al ristorante ma solo se si tratta di pasta fatta in casa mentre la pizza che parrebbe un manufatto tipicamente domestico ci serve soprattutto per uscire di casa per andare magari a socializzare questo è tipico dei giovani in un locale che non è più la casa sono un po' i paradossi dei comportamenti alimentari la pizza, il pane, le focacce questi prodotti a base di farina impastata che fanno parte di tante culture alimentari tradizionali sono oggetti non solo da mangiare ma che servono anche come supporti per altri cibi nel caso della pizza il resto, le verdure, i formaggi quello che si crede viene posto sopra nel caso del pane a volte vi sono tradizioni in cui il pane viene aperto riempito di una vivanda e poi richiuso in questo modo il pane o la pizza servono anche per trasportare o per contenere qualche cibo in questa direzione si colloca una delle invenzioni forse più geniali della gastronomia italiana del medioevo che fu ampiamente celebrata per secoli quella delle torte le torte semplicemente impasti di farina che venivano poi riempite di vari ingredienti soprattutto verdure ma anche carni anche pesci anche formaggi a seconda dei tempi dei luoghi delle possibilità e poi venivano richiuse e cotte nel forno in questo modo si aveva un oggetto che al tempo stesso serviva per contenere per cuocere e poi per trasportare le vivande per questo si tratta di una invenzione gastronomica che da un lato rimanda alla società contadina cioè una società abituata a trasportare il cibo durante la giornata passata fuori a lavorare nei campi dall'altro invece rimanda alla società borghese alla società urbana dove i cittadini portavano a cuocere le torte nei forni pubblici e poi le riportavano a casa è forse uno degli elementi più caratteristici della gastronomia medievale e rinascimentale questo delle torte è un elemento che unisce in maniera molto forte le culture subalterne e le culture di elite le culture urbane e le culture rurali nel passaggio dalla gastronomia medievale a quella rinascimentale la cultura delle torte si definisce si approfondisce soprattutto Scappi nella sua monumentale opera di cucina del 1570 ci dà una classificazione di questi oggetti in pasticci torte e crostate pasticci sono quelli di tradizione medievale con una pasta molto dura al limite dell'immangiabile quindi fondamentalmente un contenitore torte e crostate sono invece paste fatte con strati di sfoglia condita col burro e quindi un oggetto che diventa mangiabile nel suo insieme con un interno a pezzi interi e queste le chiama crostate o impastate e queste le chiama torte raccontandoci numerose varianti regionali e cittadine dalla tradizione gastronomica delle torte ripiene che si sposa in qualche modo con la tradizione della pasta nasce un'altra geniale invenzione del medioevo italiano che è quella del tortello una gloria nazionale dell'italia sul piano gastronomico è da tutti riconosciuta ed è quella dell'arte di fare i sorbetti e i gelati è un'arte che risale con ogni probabilità al cinquecento all'età rinascimentale e che ha alle spalle un complesso dibattito su quello che veniva allora chiamato il bere freddo un dibattito sostenuto principalmente dai medici si era affermata nella società di corte del cinquecento questa abitudine di bere bevande ghiacciate durante o alla fine dei pasti e c'è appunto tutta una trattatistica medica contro o pro questa nuova abitudine contrapposta a quella tradizionale del bere caldo o semplicemente del bere a temperatura ambiente questi sistemi di raffreddamento o addirittura di ghiacciamento delle bevande che viene messa a punto nel cinquecento è all'origine di questa arte della sorbetteria che noi troviamo già presente in Italia in maniera molto forte nel secolo successivo nel seicento nel seicento in alcune città italiane soprattutto Venezia e Napoli sono presenti delle botteghe in cui si vendono i sorbetti e Antonio Latini un personaggio importante nella storia della cucina italiana marchigiano quando nel 1659 arriva a Napoli scopre come scrive che in città pare che ognuno nasca col genio e con l'istinto di fabbricare sorbetti e anche assorbendo questa nuova cultura che gli gira attorno Latini autore tra il 1692 e il 1694 di un importante trattato di cucina pone in appendice a questo trattato una parte dedicata a come si fanno i sorbetti o le acque agghiacciate come scrive lui e sono qui le prime ricette scritte su come si mescola opportunamente lo zucchero il sale la neve ai succhi di limone di fragola e di altri frutti ma anche a erbe aromatiche anche a spezie come la cioccolata la cannella e aromi diversi sempre a Napoli che è un po' la capitale della nascita di quest'arte del gelato viene pubblicato nel 1700 nel 1775 il primo libro interamente dedicato a quest'arte si chiama dei sorbetti e ne è autore Filippo Baldini il quale oltre a teorizzare in maniera ormai esplicita quest'arte tradizionale della sorbetteria dedica un capitolo ai sorbetti lattiginosi è forse l'atto di nascita del gelato volendo qui trattare della cucina e dei diversi cibi per prima cosa cominceremo dal genere delle verdure questo è l'inizio di un testo importante nella storia della cucina italiana il Liber de Coquina della fine del 200 scritto presumibilmente a Napoli che è in qualche modo il capostipite della letteratura gastronomica italiana è un inizio significativo perché cominciare dalle verdure non era così ovvio in una cultura come quella medievale che dava molta più attenzione alle carni come elemento di prestigio della tavola ricca ed evidentemente anche un testo come il Liber de Coquina che fu scritto si pensa alla corte angioina era un testo destinato alle classi alti non certo un libro di cucina povera eppure questo libro di alta cucina di corte comincia raccontandoci ricette di cavoli di spinaci di finocchi di legumi ceci piselli fave lenticchie e così via questo è un elemento importante ed è una spia di una situazione abbastanza tipica nella storia della cucina italiana cioè la presenza forte di un elemento popolare anche all'interno delle cucine di elite questo carattere che si può vedere fin dagli inizi della letteratura gastronomica italiana appunto fin dal Liber de Coquina della fine del 200 rimane ancora per tutti i secoli successivi un elemento tipico dell'Italia i grandi ricettari rinascimentali da Messisbugo a Scappi hanno una grande attenzione per i piatti a base di verdura e il fatto di avere una gastronomia molto attenta a questo tipo di prodotti non è semplicemente confinato all'area meridionale della penisola il Liber de Coquina è napoletano ma esso rappresenta un modello per tutta la letteratura successiva perfino un emiliano come Giacomo Castelvetro che potremmo immaginare come rappresentante di una cultura più legata ai cibi animali al lardo o al maiale nel seicento esule in Inghilterra scriverà un'operetta dedicata ai frutti alle verdure che si mangiano in Italia di cui sente la mancanza in questo paese di carnivori come a dire che perfino un italiano del nord perfino un padano come Castelvetro si auto rappresenta e riconosce la propria identità alimentare soprattutto come grande mangiatore e come grande ghiottone diremmo oggi di verdure l'importanza delle verdure nella tradizione gastronomica italiana ha una importanza molto ampia è importante perché proprio in questo elemento si riconosce il contributo più forte che l'Italia ha dato alla costruzione della cultura gastronomica europea di età moderna ed è importante perché al suo interno è specchio di una profonda circolarità fra cultura popolare e cultura di elite fra cultura urbana e cultura rurale che io credo rappresenti il segreto della grande ricchezza e diversità della nostra tradizione gastronomica se prendiamo i grandi ricettari quelli per definizione rivolti alle classi alte e il nome più importante è sicuramente quello di Bartolomeo Scappi e della sua opera del 1570 scritta per il pontefice Pio V troviamo oltre a qualche ricetta veramente faraonica un gran numero di ricette che risentono fortemente di un modello popolaresco che si basa su prodotti semplici e che anche a base di preparazioni semplici zuppe polente o cose simili che immagineremo di più sulla tavola di un contadino scatta qui il gioco della nobilitazione nobilitazione significa che la ricetta povera viene arricchita con un ingrediente prezioso le spezie o magari l'oro nobilitazione significa che una semplice salsa a base di aglio se viene messa vicino a una carne pregiata immediatamente assume un diverso significato sociale ma al di là di questi giochi di corte che servono a ribadire differenze incolmabili noi percepiamo un'effettiva circolazione di culture diverse magari mediata dall'opera di cuochi che venivano dal popolo e lavoravano a corte comunque una circolazione di idee di tecniche di saperi di profumi di gusti in cui sicuramente è da riconoscere il segreto della grande ricchezza della tradizione gastronomica italiana di